Non c'è nessuno! Ragazzi, a grande richiesta, sono le due di notte quindi è il momento della special guest ragazzi! Quale special guest? Sono io! Ma certo sono la special guest! Ma no, certo, va bene, se proprio devi farlo... Ehi, ciao zia! Ma che zia? Ma alla fine ti ha risposto? Ma chi? Non ti ha risposto? Vabbè ma è uno stronzo. Ma non c'è nessuno! Ema, sei su Rai 2, il suo è 9 e mezza! Dopo torno ne parliamo eh! Sì, sì, ne parliamo! DJ Set ragazzi! Eccolo là, lo sapevo! La console è stranamente leggera! Ma l'hai cambiata? Hai cambiato la console? Allora ragazzi, chiedo scusa, mi hanno cambiato la console, la scheda tecnica non è arrivata, potrei sbagliare qualcosa! Ah! Ma non è? Ma come Gmail? Scusa! Quindi scusa, non potrebbe andare in modo perfetto come d'altre volte? Come sempre! Guarda, oggi potrebbe essere un po' diverso! Va bene, allora che fai? Ragazzi in sala, sulle mani! Sua Gallipoli! Sì, si parla! Io parlo Lolli! Quindi è lui che fa capire? Sì! Ah beh, dai! Story! Questa la conoscete? Ebbè c'è certo! Abbracciatevi allora! Ma la vogliamo insieme! Gemelli, abbracciatevi! Vabbè, ma che? Lo possiamo fare, siamo congiunti! Ehi! Però! Ci fa cantare! Siete pronti? Vai! Questa ragazzi si salda! Si salta? Anche la happy band non vedo l'ora di parlare! C'è il giro gmail! Vai, ci siamo! Pronti, pronti! I'm blue, da mattina! Io con i commenti, ragazzi, mi... Ma Emma? Tu hai alzato il gombo? Emma? Emma? Emma, perché? Io cane! Ma che... Ma di tornello? No, allora, questa sì! Ah, beh! Dove si ballano? Di casa! La devi rovinare! La sentila, sentila! Ma sei staccata una cuffia! Anche il parente di giù! Ma tu mi senti? Tu sai che... Senza cuffie! Ragazzi, sono un professionista! Sì, sì, si vede! Le pronti? Vai, guardiamo, guardiamo! Gallipoli! Sì, Gallipoli! Sì, Gallipoli! Sulle barri, male! Vai, cantiamola! Dobbe lo diciamo! Dove? Dove si balla? Chiudo! Hai preso il computer! No! Emma! Emma! Perché? Ma che se c'è il fliggo? Ma no! No, ragazzi! Se non siete mai stati un DJ set Non siamo mai stati E mai ci andremo Se va così Quando mi manca la droga Ma perché? Ti manca tanto Allora 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 No Questo è un capolavoro Non c'è 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 un capolavoro No no Quello dopo no 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 Quello dopo no Non va bene Allora una cuffia staccata Sto pensando Sì We are family Ah questa ce la sta lasciando Eh bella We are family No No Perché? Ma perché? Una bruttezza Una Eh ma Non voglio fare massa Capito? No Maracaibo Maracaibo Dai No 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 Questa la ballo con Pino Iodice Sì sì Ho capito Guarda Il cavetto staccato della cuffia Ma non c'è nessuno qui Tutti stretti Ma che mix è? Ma eh ma Andiamo domani a Lecce Le date su Facebook No Calibro di Lecce No ragazzi Va bene Lega avanti Fa quel tratto lì Non ho parole Ti ha regalato questo DJ7 Hai visto? Non ti ha fatto per regalare Ecco